Il sindaco di Ciro Marina, Nicodemo Parrilla, si scaglia contro l'Acros, società mista che si occupa dello smaltimento di rifiuti in buona parte dei comuni della provincia di Crotone. Oggetto del contendere è lo scarso servizio che sarebbe effettuato dalla società. Dopo due versamenti di pagamento superiori a 42.000 euro, Parrilla si aspettava un servizio di raccolta dall'Acros almeno sufficiente, garantendo un vivere civile alla popolazione. Ma così non è stato. Purtroppo, scrive il sindaco alla società e alla prefettura, al degrado ambientale dal pericolo costante di infezioni, si aggiunge un palese disagio e pericolo per gli automobilisti, che si vedono invase le corsie da immondizi ingombranti e quant'altro. Di conseguenza, il primo cittadino di Ciro Marina chiede al comando di Polizia Municipale dei Carabinieri, ognuno per la propria competenza, una fattiva collaborazione, redigendo apposite relazioni sul potenziale pericolo rappresentato dai rifiuti sparsi per le vie della città in termini di viabilità e sicurezza. Grazie a tutti!